Svanti allora, iniziamo dalla partita, 4-2 proprio come l'anno scorso, però questa sera c'è il rammarico per i quattro gol subiti, ma da un punto di vista del gioco l'Udinese si è ben comportata contro una squadra forte. Sì, è sempre difficile contro Napoli fuori casa, ma abbiamo giocato con lo spirito giusto e adesso guardiamo solo in avanti. Tu come stai? Ti chiedo, perché ti abbiamo rivisto in campo dopo l'ospensione che hai fatto contro il Torino, poi il San Paolo è uno stadio che ti porta fortuna, tu qui hai anche segnato l'anno scorso. Che sensazioni hai avuto nel tuo ingresso in campo? Sempre contento quando gioco, ma adesso posso giocare più, adesso sento sempre meglio, adesso sto 100%. Vi dà fiducia la partita di stasera? Sì, sì, certo, sempre.